Il gran grado di fine stagione, ci fa piacere averti qua con noi, con la tua Alfa Romeo, con chi abbiamo il piacere di parlare o da dove vieni? Vengo dalla Croazia, vengo da Pola, vengo con la 147 Diesel, non è la prima volta, non so, 4-5 anni e di seguito. Cosa ne pensi di questa manifestazione o degli organizzatori? E' una delle migliori o anche le più belle manifestazioni dove io vado, per questo vado ogni anno, anzi vengo qua ogni anno. Definisci cosa rappresenta per te Alfa Romeo nella tua vita di tutti i giorni? Un stile di vita, anche passione. Parole povere. Grazie per essere qua con noi, ci ritroviamo poi nel pranzo direttamente in Vila Manelli. Buona giornata. Buona giornata a lei. Grazie.